Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Ilaria per chi non mi conoscesse e questo è un nuovo video outfit Trucco leggerissimo, super veloce, ho cercato di piastrarmi i capelli e non ho messo nessun accessorio Non volevo mettere una collana però dato che ho questa bellissima, stupenda camicia a collo alto o comunque abbastanza importante è chiusa solo al primo bottone Quindi ho optato per non mettere nessuna collana, ho messo solo questi orecchini che sicuramente, sicuramente ma sicuramente avrete visto nei video precedenti Perché ultimamente li sto mettendo spesso Io adoro tantissimo questa camicia che ho preso quest'estate su una pagina Instagram, la feci vedere anche in un video haul Che se volete ve lo lascio cliccabile qui al lato E la seconda o terza volta che la metto perché è abbastanza particolare e quindi va abbinata secondo me in un certo modo E quindi ho deciso di metterla così Sotto ho un body a manica lunga nero con una gonna altrettanto nera La camicia ha una lunghezza appunto fino alla coscia, fino a metà coscia Ho chiuso solo il primo bottone in modo da lasciarla aperta E per non farmi sembrare un sacco, un sacco di patate ho abbinato questa cinta nera con le borchettine oro Ho messo le collante e poi il pezzo importantissimo forse anche molto di più della camicia Sono questi super stivali neri in pelle bellissimi che ho preso da Zalando Bellissimi e altissimi Sono super comodi perché appunto sono per tutti i giorni o comunque anche per la sera per una serata comoda Perché appunto sono senza tacco Questo era il mio outfit, io spero di avervi tenuto compagnia o che comunque vi abbia fatto perdere tempo Vi ringrazio di essere stati qui con me oggi come sempre Vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao!